E' calato il sipario sul processo di primo grado riguardante l'operazione antidroga della DDA Ghiaccio, scattata il 27 marzo 2013, con l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Patti, che in quell'occasione si sono avvalsi di unità cinofile di Nicolosi e Palermo. Il collegio giudicante del Tribunale di Patti ha condannato Roberto Longo ad un anno e dieci mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, Marco Rocchia ad un anno e otto mesi e 2.000 euro di multa, Fabio Nigro, Andrea Sorrenti, Giovanni Iannello ed Ivan Ciammetta ad un anno e sei mesi e 2.000 euro di multa ed Antonio Magno ad un anno e 1.500 euro di multa. Tutti gli imputati sono stati assolti da alcuni capi di imputazione, scagionati da ogni accusa Filippo De Luca, difesso dall'avvocato Eliana Raffa e Giuseppe Ceraulo, perché il fatto non sussiste. In quest'indagine, che rotava attorno ad un bar localizzato nel centro storico di Patti e da lì si determinava lo spaccio verso svariate zone della Sicilia, sono state coinvolte oltre 30 persone per accuse che a vario titolo si riferivano ai reati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga, a detenzione e a fine dispaccio. Alcuni indagati hanno scelto il rito abbreviato, sei persone furono arrestate, tutti i destinatari dei provvedimenti della DDA di Messina.